Buongiorno ragazzi, buongiorno preparativi C'è agitazione Tommy? Sei agitato? Ti vedo teso? No, leggermente Mi sei andato a letto presto, hai fatto l'Atleta Eh, però l'agitazione c'è sempre È là in fondo la zona accanto Parti qua Vai 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 Tommy! 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 Ah Tommy vai... Vai Tommy ti riprendi vai tommy ragazzi grandi pronti per le ricognizioni hai 400 hai 400 mi fanno solo 8 no 6 no lei 8 siccome ha fatto poca bici hai fatto fare un po' di rilanci hai un po' di rilanci hai chiuso hai chiuso ancora una chiusa i ragazzi mi hanno fatti duro ragazzi in categoria ragazzi vi potete fermare un attimo un attimo un attimo un attimo un attimo mi fa alto il riscaldamento poi non va più mi fai un attimo e minchia fa il giro questo qua gli tocca chiama Fred un attimo per un attimo un attimo un attimo un attimo un attimo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono arrivati in zona cambio, lasciano caschetto e esce via di corsa. Vai Zoe, vai Zoe, via, via, via. Ci spostiamo, ci spostiamo, ci spostiamo, va in arrivo. E allora, pronti ad accogliere, buon applauso, l'emozione dell'ultimo ventilineo. Non malla, non malla davanti. Attenzione, con sicurezza, l'impettorale è il 92, lei è crociare in sala. Dai Giulia, brava, dai, tutto, tutto, dai, sprinta fino alla fine, dai, sprint finale, bravissima. Poi veramente, un fiume in piena di atleti che arrivano. Passa lì dentro, Fede. Fede, oh, mi ha visitato, Fede. Dai Fede! Dai Fede! Dai Fede! Forza, Ale, forza, Ale, non mollare! Forza, Ale! Forza, Ale, Ale, Ale! Dai Fede, tieni! Dai Fede! Forza, Ale, Fede! Dai Fede, dai Fede, dai dai dai! Dai Fede, bravo! Dai Tommy, dai Tommy! Tutta, tutta, tutta! Ma attenzione, è scappato via, non molla il ritmo! Dai Fede, dai Fede, dai Fede! Si lotta, si lotta, ma non ce la fanno dietro! Fede di la verità! Tommy fai vedere! Stava facendo una grande bici perché l'aveva recuperato! Infatti ho visto tornare Fede, poi non tornava più! Dai Fede, bella corsa! Anche tu, anche tu! Ma qua, ecco perché non ti abbiamo visto! Questa era tu! Ma lui ti aveva superato? Poi c'era sotto la curva! Ma sei caduto dove è caduto lui? Anche lui! Anche tu Leo stai volando! No, hai rotto il bot! Ma sei caduto! 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 Allee! Dai, Davide! Dai, Antonio! A lei Antonio! A lei Antonio! Vai Antonio! Vai Antonio! Vai Antonio! Ancora arrivano adesso. Ancora un giro. Un'ultima giro. Diciamo che... E quindi bene, altrimenti... D'accordo. Grande Viti! Grande Viti! Grande Viti! E l'eau! Un'altra parte! Un'altra parte! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.